Abbiamo invitato in studio il professor Vincenzo Pane del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia che è anche componente del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici impegnato proprio nella gestione delle opere pubbliche, infrastrutture strategiche in particolare che sono previste in questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora professore, intanto benvenuto. Mi riaggancio a quello che abbiamo sentito in chiusura del servizio per capire che cosa è cambiato effettivamente perché da quando si lavora con questi fondi, da quando c'è questo piano, oltre ad esserci a disposizione di fondi specifici e maggiori, sono cambiati anche i tempi con cui si lavora perché ad esempio abbiamo sentito che ci sono delle scadenze ben fissate, anche molto vicine. Assolutamente. E' questo che ha dato uno scatto in più? Sì, sì. Ma già nella denominazione della legge che situisce la governance del PNRR si legge, cito letteralmente, governance del PNRR e prime misure di accelerazione e snellimento delle procedure. E qui c'è già sintetizzato la grande novità del PNRR e delle istituzioni che lo stanno seguendo, tra cui il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi effettivamente si lavora a ritmi più serrati. Si lavora perché l'Europa ci impone entro giugno 2026, come probabilmente molti sanno, di completare una serie di opere strategiche di interesse nazionale, strategiche per il peso e di particolare complessità. E quindi il Comitato Speciale è chiamato a esprimere pareri, esaminare i progetti, esprimere pareri su queste opere, eventualmente positivi, quindi di accoglimento, accelerando l'iter di approvezione e di esecuzione attuativa di questi progetti. Quindi voi dovete un po' fare da filo conduttore tra i vari soggetti coinvolti, proprio per fare in modo che poi si lavori in modo serrato. Pensi che la composizione del Comitato Speciale è molto articolata. Ci sono oltre a 13 docenti universitari trasversali di varie competenze che vanno dall'ingegneria, alla geologia, all'ambiente, e all'economia e quant'altro. Nel Comitato Speciale sono rappresentati ben sei ministeri diversi. Il Ministero di Infrastrutture, ovviamente, perché sono opere infrastrutturali, ma c'è il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Cultura, tutto l'interesse archeologico, la frevintendenza. Dovete farli dialogare e metterli d'accordo. Avete tante opere che sono sottoposte alla vostra attenzione. Direttamente in Umbria non ce ne sono, però ce n'è una che ci interessa da vicino, che è il raddoppio della Orte Falconara. Anche lì vale questa tempistica serrata. Assolutamente sì, i progetti sono stati esaminati. Sull'Orte Falconara ci sono sia progetti finanziati con PNRR, sia progetti di amministrazione ordinaria. Da questi ordinari ricordiamo il raddoppio Spoleto-Terni, il raddoppio Spoleto-Campello. Nel PNRR si prevede una velocizzazione di tutta la linea Orte Falconara, fondamentalmente con un upgrade di tipo tecnologico e poi al confine con l'Umbria c'è il raddoppio di Castelpiano, il raddoppio Albacina. Per cui possiamo sperare che si arrivi presto. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. Siamo sicuri. Va bene, grazie, grazie professore. Allora noi la ringraziamo per averci aiutato a capirci qualcosa di più a proposito appunto di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e chiaramente poi saranno tutti i focus che riprenderemo. Grazie mille. Grazie.